Attrice dal repertorio comico, ha partecipato agli spettacoli Marquette, nell'autunno 2006, e Colorado Cafè, dal 2007 al 2009 e dal 2012 a oggi, mentre in teatro ha portato un proprio spettacolo intitolato Suonata, in cui è stata diretta da Luca Domenicali. Di origini Salentina è nata a Milano dopo gli studi in Clauneria e Mimo presso la scuola di Jeanne Mening sull'attore comico alla scuola Atelier e Teatro Fisico. Metodo Lecoq, di Philip Radice a Torino si è dedicata al cabaret. Tra i suoi personaggi figurano quelli di un riverente teenager macabramente innamorata di uomini, adulti, Adelina Perez, domestica latinoamericana di Letizia Moratti, della quale racconta gli arcani segreti. Una pressante sposina pugliese, Morchia, una nuova fata delle Wings, la Giovanna e Violetta parodia della protagonista della serie televisiva argentina Violetta nel 1998. Dà vita alla compagnia degli ignorri. Insieme a Natalino Balasso, Corrado Nuzzo, Bruno Nataloni e Domenico Lannutti. Con cui realizzerà anche diverse commedie per la regia dello stesso Balasso.